Classificato PG18+. Con Outlaus RP abbiamo rivoluzionato il roleplay italiano di Minecraft. Il mondo di gioco è splendido, enorme e vario. Una modernissima città attraversata da una vasta linea metropolitana e veicoli eco-green per non inquinare. Per la prima volta il roleplay non si sviluppa solo su una città, ma su ben tre. La Slaus, città del gioco d'azzardo, del lusso e del peccato. Little Italy, città della pizza e della pericolosa mafia italiana. A proposito, le mafie approvate saranno fin da subito tre e per ogni mafia approvata troverete una città o un intero quartiere che la mafia dovrà difendere. Little Italy per la mafia italiana, il Monte Vladimir per la mafia russa e il quartiere giapponese per la mafia giapponese. Attento quando metterai piede qui dentro. Assicurati di non toccare senza il loro permesso ciò che per loro è più prezioso di ogni altra cosa. Le droghe. Le droghe raccolte devono essere lavorate per poter essere vendute e scambiate per soldi in nero che dovranno essere poi puliti prima di poterli utilizzare. Giravoce che a La Slaus, un giro di affari sporco, permette la pulizia del denaro. Ma non finisce qui, perché in un luogo come questo, dove sembrerebbe che la criminalità la faccia da sovrana, esistono forze armate ben preparate. Le multe e gli arresti sono all'ordine del giorno. Ma Outlaus è anche divertimento, escursioni nella natura, tweet da condividere con amici, vita lussuosa e molto altro che scoprirai solamente. Entrando adesso nel server. Outlaus RP. The Next Generation Roleplay. The Next Generation Roleplay.